Buongiorno dalla redazione di UD News. Apriamo questa edizione flash del nostro TG con un aggiornamento di cronaca. Non hanno purtroppo dato ancora alcun esito le ricerche del 44enne tarvisiano disperso dal pomeriggio di ieri. L'uomo un escursionista appassionato aveva avvisato la moglie che sarebbe andato a percorrere il sentiero 511 che parte da cave del predile per raggiungere la portella, una piccola insellatura nel sottogruppo del monte Guarda sulle Alpi Giulie. Si tratta di un sentiero di circa due ore di cammino che non presenta difficoltà particolari e che conduce tra l'altro al grande abete bianco della foresta di Tarvisio, il più grande della regione. L'uomo non è rientrato nella serata di ieri e la moglie ha quindi lanciato l'allarme. Le ricerche si sono protratte fino a notte inoltrata anche assieme alle squadre dei cinofili senza esito purtroppo. Il telefono dell'uomo è irraggiungibile perché nella zona non c'è copertura. Le squadre di soccorso della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e anche del soccorso alpino di cave del predile hanno ripreso le ricerche questa mattina, hanno iniziato a battere i dintorni del sentiero e si è alzato in volo anche l'elicottero della protezione civile per le ricerche dall'alto. Al momento però come detto dell'uomo non è stata trovata ancora alcuna traccia. E adesso dal Tarvisiano ci spostiamo a Buia per parlare della situazione della DM Electron. Questa mattina ci sono stati dei momenti di tensione all'ingresso dello stabilimento, un ingresso presidiato dai lavoratori che temono uno spostamento dell'attività in Romania, momenti di tensione perché i lavoratori hanno bloccato l'accesso ai camion e allora è proprio lì che si trova il nostro David Zanirato cui cediamo subito la linea per fare il punto della situazione. Buongiorno David. Buongiorno Angela, ben ritrovati. Siamo qui fuori i cancelli dalla DM Electron di Buia. Accanto a me ci sono i rappresentanti di FIOM e FIM che assieme ai lavoratori da venerdì scorso hanno attivato questo presidio proprio per lottare contro il possibile trasferimento dei macchinari in Romania di questa azienda, un'azienda che produce schede elettriche. Gian Paolo Rocca Salva, stamattina partiamo da qui, momenti di tensione proprio all'alba. Sì, stamattina verso le 7.20 sono arrivati due furgoni carichi di forze dell'ordine con l'obiettivo di fare in modo che i camion che noi abbiamo tenuto fuori in questi giorni entrassero a caricare le linee di produzione che dovranno partire per la Romania. I lavoratori si sono seduti davanti ai camion per cercare di fermarli ma le forze dell'ordine li hanno trascinati via facendo in modo che i camion potessero entrare. È una situazione drammatica se vogliamo anche inaspettata perché i nostri lavoratori sono gente pacifica, non hanno fatto nessun atto che possa provocare un intervento di questo tipo. Siamo rimasti sconcertati ma siamo comunque determinati a portare avanti il nostro progetto che è quello di fare in modo che questa azienda rimanga buia. Voi chiedete Fabiano Venuti anche di conoscere questo piano industriale. Sì, un piano industriale che poi l'azienda non ha mai presentato nei fatti, ci ha sempre dato delle risposte che non ci hanno convinto in merito al fatto che se escono degli impianti dovrebbero rientrarne di nuovi ma i lavoratori come potrete anche ascoltare da loro non vedono nessun impianto nuovo. Poi quando si acquisiscono nuovi macchinari qua si producono schede elettroniche, non è che è sufficiente attaccare la presa alla parete e escono le schede elettroniche magicamente, bisogna formare i lavoratori, bisogna fare nuovi programmi, non ci ha convinto l'azienda. Oggi abbiamo un incontro alle 18 in regione con l'assessore alle attività produttive e all'assessore alle attività produttive vogliamo chiedere se questa è un'azienda che ha usufruito di contributi dalla regione. Questa è un'azienda, la ricordo, che ha utilizzato gli ammortizzatori sociali per molti anni, sono finanziati con i soldi dei lavoratori, gli ammortizzatori sociali e se hanno avuto uno scopo era quello di preservare l'occupazione, fare in modo che l'occupazione si tutelasse su questo territorio e non sicuramente in Romania. Il sabato è venuta proprio qua anche l'assessore a lavoro Rosolen, che cosa vi è detto, quali le promesse che vi ha fatto? L'assessore Rosolen ha cercato di capire qual era la situazione, voleva parlare anche con l'imprenditore che non si è fatto vedere, si è fatto un quadro, ha promosso velocemente il tavolo di oggi in maniera urgente, su questo devo dare atto che la regione è stata ai patti, lei non sarà presente perché a Roma, ma sarà presente l'assessore Bini, quindi io penso che quel tavolo possa essere utile per cercare di far realizzare quel piano industriale che non abbiamo ancora mai visto. Allora tra poco Angela magari ci ricollegheremo portando al microfono anche le voci di alcuni dei lavoratori della DM Electron, per il momento la linea ritorna a te. Grazie, grazie Davide, noi adesso ci spostiamo nell'Isontino e parliamo di sanità, un tasto sempre dolente negli ultimi decenni per l'Isontino che si è sentito sempre penalizzato sul fronte sanitario a livello regionale. La recente approvazione del testo che fa rientrare l'area goriziana nell'orbita di Trieste nell'ambito del nuovo assetto del sistema sanitario regionale è stata salutata con favore a Gorizia, in particolare dal sindaco Ziberna che guarda ai prossimi passaggi volti a garantire una sanità di qualità. Sentiamo Francesca Santoro. Dopo che il Consiglio regionale ha approvato il testo che disegna l'assetto istituzionale organizzativo del nuovo servizio sanitario regionale, con la riduzione da 5 a 3 delle aziende sanitarie e l'area esontina che entra nell'orbita di quella di Trieste, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, scansa i detrattori e guarda avanti con l'intento di arrivare a una sanità realmente efficace. Peraltro per garantire che gli ospedali di Gorizia e Monfalcone continuino a essere a presidio ospedaliero SPOC, assicurando l'implementazione dei servizi al cittadino e migliorando la qualità e la tempistica delle prestazioni, i consiglieri regionali della Lega, Antonio Caligaris e Diego Bernardis, Giuseppe Nicoli di Forza Italia e Diego Moretti del PD, hanno proposto un ordine del giorno approvato in aula. La promessa da parte della Giunta è stata mantenuta, perciò nella macrostruttura abbiamo i numeri insieme a Trieste per poter fare e assicurare sanità. C'è un secondo step molto importante e un terzo step. Il secondo sarà quello di definire i contenuti, cioè della prestazione sanitaria all'interno degli ospedali di Gorizia e di Monfalcone, sul quale ci stiamo già lavorando e abbiamo già avuto importanti rassicurazioni da parte dell'assessore del vicepresidente Riccardi. Il terzo momento altrettanto importante sarà quello della sanità territoriale, cioè quello che viene offerto dal territorio, per capirci dalla domiciliare all'RSA all'ospice. Stiamo preparando un documento che condivideremo subito dopo con gli amici sindaci del territorio per poi portarlo alla Giunta regionale. Io credo che in questo momento, con questi tre passaggi, noi avremo davvero cercato di dare una svolta a quell'orribile sanità alla quale ci aveva condotto la Giunta Sarachiani. E parliamo adesso dell'attività della Croce Rossa, che a Udine è aperto un presidio per le persone che si trovano in difficoltà, per i senza tetto che dormono sulle strade, che con l'arrivo dell'inverno, con l'abbassamento delle temperature rischiano anche la vita, rimanendo all'addiaccio nelle ore notturne. Davide Zanirato è andato questa mattina, durante il nostro primo collegamento del mattino, proprio nella sede dell'ex caserma Friuli, dove c'è un centro che ospita i migranti, ma dove c'è anche una centrale operativa attraverso la quale la Croce Rossa gestisce le diverse situazioni. Vediamo. Vi mostriamo qual è la sala operativa della Croce Rossa del Comitato di Udine, è un unicum in regione Sergio Menero. Sì, per ora è l'unica centrale in cui è in grado di gestire questo tipo di servizio che ci viene richiesto dall'azienda San Italia. In qualsiasi momento sappiamo dove sono i mezzi, cosa stanno facendo, è tutto quello che rimane da fare. Facendo anche un paio di numeri, quanti sono i volontari e i mezzi a disposizione in provincia? In provincia noi come Comitato di Udine ne abbiamo 1.300, però a questi bisogna scendere a livello operativo circa 600-700. Con diverse ambulanze dislocate su tutti i punti nevralgici del territorio? Sì, Croce Rossa adesso con la convenzione, con il 112, anche le postazioni di Ampezzo, di Ovaro, tutte quelle che sono state istituite dopo la riforma della sanità, le stiamo gestendo noi sempre in collaborazione con il 112, con la centrale Sorner di Parmanova. Questa sala operativa è inserita nella ristrutturata palazzina dell'ex Friuli dove avete creato tutti i vostri servizi a disposizione. C'è anche un punto medico, l'infermeria, tanti servizi a disposizione non solo di chi opera nel territorio, ma anche dei cittadini? No, l'ambulatorio delle infermiere volontarie che trova posto qui nella palazzina è proprio nato in funzione alle esigenze del territorio. Le esigenze di queste persone di una certa età che non riescono ad andare nelle strutture sanitarie e trovano soddisfazione di quello che hanno bisogno presso le infermiere volontarie di Croce Rozza. Adesso apriamo la nostra pagina sportiva parlando di Udinese, Udinese che ieri come sappiamo ha perso in casa contro l'Atalanta 3 a 1, il risultato finale. Allora andiamo a rivederci i gol e le immagini salienti della gara di ieri nel servizio di Maurizio Ferrari. La dura legge dell'ex colpisce tre volte e l'Udinese di Davide Nicola è costretta a capitolare. In una dacia arena gremita e tinta di bianco-nero la doccia gelata arriva subito perché Zapata piomba con il sinistro sugli sviluppi di un corner battuto da Gomez e prolungato da Toloi. È il secondo minuto di gioco e la non esultanza di Duvan non mitiga la botta subita. I bianco-neri però hanno la forza di ritrovare l'immediato equilibrio grazie ad un'azione veloce costruita sulla catena di destra partendo da Musso passando velocemente a Struiger e Teravest con il cross dell'altro ex da Alessandro per Lasagna puntuale in scivolata per l'appuntamento del provvisorio 1 a 1 e del terzo gol stagionale. Alla ripresa Gasperini manda dentro Musa Barrow e il giovane dell'Atalanta è decisivo nella costruzione del gol del nuovo vantaggio. L'attaccante classe 98 chiude la triangolazione con Atebor ed entra nel cuore dell'area di rigore. Perde il controllo al momento del tiro ma è il primo ad arrivare sul pallone vagante e ancora Zapata per il raddoppio. I friulani restano aggrappati alla partita e provano a rientrare in carreggiata trovando una chance clamorosa con Fofana che prende il palo a 10 dal termine. Passano pochi istanti e da una rimessa laterale errata sull'asse Struger-De Paul, Atebor recupera palla e innesta al contropiede veloce servendo ancora Duvan Zapata che trova la parte interna buona del palo per la tripletta personale e i tre punti per l'Atalanta. È la prima sconfitta della gestione Nicola, l'Udinese resta a quota 13 punti al quart'ultimo posto della classifica. Ora andiamo a sentire anche i commenti del dopo partita. Prima abbiamo sentito nella nostra prima diretta del mattino le parole di mister Nicola. Andiamo a sentire adesso il direttore tecnico Paradesi. Sentiamo il suo commento. Oggi non voglio essere negativo perché sappiamo quello a cui noi andiamo incontro, sappiamo qual è il nostro livello, sappiamo il campionato di difficoltà che dobbiamo fare, sappiamo quali sono le crescite che dobbiamo fare in questa stagione, dobbiamo lavorare, dobbiamo andare avanti settimana dopo settimana, credere nel lavoro di Nicola e sono convinto che poi arriveranno i risultati, che poi arriverà un gruppo che crescerà, da giovani passeranno a meno giovani, da meno giovani passeranno esperti. Ecco quello che mi piacerebbe fare è lo stesso percorso dell'Atalanta. Peccato non aver dato una soddisfazione a un pubblico eccezionale perché c'era lo stadio pieno. Ma io è per questo che ti ho detto, pareggia Fufanà, diventa veramente una cosa dura per la squadra che ci sta contro perché noi abbiamo nel pubblico veramente il dodicesimo uomo, oggi è stata una cosa emozionante, una cosa meravigliosa, l'entrata in campo con tutti i cartoncini bianchi e neri. Faccio i complimenti ai tifosi, è veramente un peccato non dar loro delle soddisfazioni che meritano. Ieri c'era uno stadio davvero tutto pieno per seguire la partita. Andiamo a sentire adesso anche la voce dei protagonisti, a cominciare da Alessandro, giudicato da tutti ieri il migliore in campo. Andiamo a sentire l'intervista di Jacopo Romeo. Personalmente sono contento di aver giocato titolare, non vedevo l'ora, giocare titolare nell'Udinese, nello stadio di casa, è veramente una gioia personale. La partita va analizzata tutto nel suo percorso perché è ovvio che è arrivata la sconfitta e quindi c'è l'amarezza, la rabbia. Però ci sono aspetti dove abbiamo fatto bene e aspetti dove abbiamo fatto male. Poi l'episodio ti cambia la prospettiva di come vedi la gara perché se all'ottantesimo la palla di Fofana entra e non commettiamo poi un'ingenuità sul terzo gol la vedi in una maniera diversa. Ovviamente c'è tanto da migliorare però resta il fatto che di fronte c'era un'ottima squadra che ha tolto la Juve. Io ho visto l'Atalanta mettere in difficoltà praticamente tutte le squadre con cui ha giocato. C'è stato un pochino un calo dopo il secondo gol subito, poi con Fofana abbiamo preso un palo dove magari potremmo riprendere la partita, poi abbiamo subito un altro gol, la potremmo riaprire nuovamente, poi siamo crollati un pochino sia mentalmente che fisicamente verso la fine. L'Atalanta è un'ottima squadra così come lo sarà l'Inter, ci prepariamo con la mentalità che ci prepariamo sempre, una mentalità di lavorare, di sacrificarci l'uno per l'altro e di tornare a fare risultato. Eman Dragora ha parlato di calo mentale e anche fisico nell'ultima parte della gara. E proprio la preparazione atletica è stato uno degli aspetti affrontati ieri sera nel corso della trasmissione Studio e Stadio. Commenti? Andiamo a sentire le opinioni, i pareri degli ospiti in studio. Nella cattiva sorte posa sempre il demerito. Oggi l'Udinese nel secondo tempo non è esistita. Ha fatto quel palo, sì, poteva entrare col tiro di Fofana, sull'unica disattenzione dell'Atalanta che era in assoluto controllo della partita. Perché? Perché aveva più birra dell'Udinese, perché correva più dell'Udinese. Ancora una volta, e siamo alle solite, ancora una volta l'Udinese ha giocato un tempo. Questa è la realtà dei fatti. L'Udinese sta pagando una pessima preparazione a livello atletico. E nel calcio moderno, oggi abbiamo partecipato alla genesi del VAR, è stato detto che il calcio senza il VAR non può più andare avanti. Meno male che c'è il VAR, perché il VAR è un ausilio alle squadre, ai giocatori, agli arbitri. Cioè è un ausilio al calcio. La preparazione atletica nel calcio moderno è basilare. Se non ti aleni con intensità, non vai da nessuna parte. L'allenatore oggi ha osato di più. Era convinto che la squadra avesse qualcosa di più sulle gambe, perché se pressi più alto, dopo spendi più energie anche per indietrezzare. E la squadra, nel secondo tempo, era ferma. Queste dunque le considerazioni fatte ieri sera nel corso della nostra trasmissione studio e stadio commenti. Adesso siamo pronti per ritornare alla notizia che abbiamo dato nella prima parte del nostro TG, ovvero il presidio dei lavoratori dell'ADM Electron a Buia. Vedo pronto David Zanirato con un ospite. Allora David, a te la linea. Sì, Angela, accanto a me c'è Maurizio, uno dei lavoratori dell'ADM Electron. Da venerdì siete qui con questo camper a fare il presidio. Come state vivendo questi atti? Ma, con veramente sorpresa. Sorpresa, perché ci aspettavamo, diciamo, un imprenditore che potesse fare i suoi interessi, non in questi termini. Pensavamo tutti come educazione di avere delle forze dell'ordine. Per l'ordine pubblico abbiamo visto schierate a difendere un patrimonio privato, io penso. Mi sembra strano che, io avevo pensato, sbaglierò io, che l'ordine pubblico si faccia in area pubblica, se no non ha senso chiamarlo così. Io li ho visti schierati. Schierati a fronte di cosa tutto questo? Io chiedo a chi potrà darmi delle risposte. C'è qualche in questo presidio, qualcuno ha segnalato un capoclan, un malavitoso, perché questo qua è uno spiegamento di forza che io in 50 anni non l'ho mai visto, neanche in televisione, neanche quando hanno preso i lati tanti. Tornando invece per quanto riguarda i termini di questa battaglia, voi da alcuni giorni siete qui perché siete preoccupati del futuro dell'azienda, sono arrivati questi camion la mattina, avete cercato di bloccarli. Sì, certamente, ma noi abbiamo segnalato questo stato già da mesi. Dopo, non sono macchinari che sono stati acquistati così. Quest'azienda ha avuto tre anni fa, con un accordo firmato in regione, a fronte di 60 esuberi, un impegno da parte dell'azienda di acquistare dei macchinari, della formazione e tutto. Questi macchinari non ci sono più in azienda, sono su questi camion. Non c'è stata quella formazione che era prevista a questo accordo. Io sto vedendo delle forze dell'ordine, magari giustamente, che stanno tutelando dei camion, l'entrata dell'uscita. Io ho rischiato di essere investito stamattina, alle 7.20 ho chiamato il 112 come mi hanno consigliato, io sto ancora aspettando. Intanto stanno salvaguardando un diritto privato, quello di entrare e uscire con i camion. Io spero che qualcuno abbia verificato cosa c'è all'interno di questi camion. Ci saranno mica queste famose linee tecnologiche prese con l'aiuto, con un accordo in regione. Io chiedo, prima di portarle via con l'aiuto, giustamente se hanno ragione delle forze dell'ordine, verificate cosa c'è dentro prima che arrivino all'estero. E questa è la mia domanda. Se dopo è lecito, lo aiutiamo noi a andare all'estero, ma con i suoi mezzi, non con i nostri. Grazie, grazie. Questa era una delle voci dei lavoratori qui in presidio fuori dalla DM Electron. Allora nel corso dei nostri prossimi notiziari cerchiamo di portare altre voci, altri contributi sempre qui da voi. A te Angela. Grazie a Davide Zanirato. Noi siamo in chiusura di questa edizione del nostro Tg. Allora vediamoci assieme le previsioni del tempo per la giornata di oggi a cura, come sempre, dell'Osmer Arpa. Poi ci rivediamo alle 12 per un'altra edizione in diretta del nostro Tg. La giornata di oggi caratterizzata sempre da correnti settentrionali in quota, quindi qualche nuvolamento di passaggio sulla regione, forse un po' più presente sulla fascia alpina e sulle zone orientali, ma non mancherà comunque ampie fasi, ampi spazi col cielo sereno. Non c'è vento e le temperature tendono gradualmente a calare in quota con uno zero termico che si porta intorno al 1200 metri circa. La giornata di domani vedrà invece il cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso sempre sulla fascia alpina per le correnti settentrionali. Temperature cominceranno a calare in maniera un po' più sensibile anche nei bassi strati, con delle gelate un po' più diffuse rispetto a stamattina sulla pianura. Temperature sempre un po' più umidi, ma non lontane da zero gradi anche sulla costa. Freddo naturalmente in montagna con valori ben sotto zero. Temperature massime poi oggi salgono intorno ai 10-12 gradi sul pianura costa, domani si fermano al di sotto invece dei 10 gradi. Tempo tutto sommato buono anche per quanto riguarda la giornata di mercoledì, in prevalenza sereno, freddo, al mattino gelate sulla pianura a valori intorno ai meno 3-1 gradi, un po' più umidi le temperature sulla costa, di nuovo temperature massime sotto i 10 gradi sia in pienura che sulla costa. Lo zero termico rimane comunque piuttosto basso, quota inferiore ai 1000 metri in montagna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.